Eccellenza, un anno di presenza delle Ligue di Santa Rita è molto più grande. Qual è il messaggio? Che la santità non è solo per i santi ricordi fin dalla Chiesa, ma anche per tutti noi cristiani. Io sono probabilmente convinto che l'obiettivo, la meta, il fine di una vita cristiana è la santità. O la santità o dobbiamo dichiarare che abbiamo fallito. Il problema è che noi, in realtà, spesso giocchiamo a ribasso la nostra vita. Noi dobbiamo alzare la stracione della qualità della nostra vita. La santità è possibile quando c'è l'incontro tra la nostra responsabilità e la grazia di Cristo. La grazia di Cristo non manca mai. Invece, spesso manca la nostra responsabilità. Se noi ci impegniamo, se noi ci teniamo disponibili a lasciarci fare dalla grazia di Cristo e incontriamo il Vangelo, cerchiamo di vivere ogni giorno nella fedeltà alla nostra vocazione, io sono convinto a dire che ogni persona può diventare santo. Anzi, ogni persona può diventare santo o, almeno, può o deve dichiarare che ha fallito. Grazie.